Una educazione inclusiva che non si racchiuda entro i muri e diventi troppo selettiva senza aprirsi alle periferie. Questo l'auspicio di Papa Francesco agli educatori cattolici di tutto il mondo riuniti per il congresso Educare Oggi e Domani una passione che si rinnova organizzato dalla congregazione per l'educazione cattolica. Ricevendoli in aula Paolo VI assieme a tanti studenti il pontefice ha messo in luce come non si possa parlare di educazione cattolica senza parlare di umanità perché l'identità cattolica è Dio che si è fatto uomo. Educare cristianamente non è soltanto fare una catechesi, questa è una parte, non è soltanto fare proselitismo ma mai fate proselitismo nelle scuole, mai. Educare cristianamente e portare avanti i giovani, i bambini nei valori umani in tutta la realtà è una di quelle realtà e la trascendenza. A 50 anni dalla dichiarazione conciliare gravissimum educazionis e a 25 dalla costituzione apostolica di San Giovanni Paolo II, ex corde ecclesie, i rappresentanti delle 210.000 scuole e delle oltre 1.800 università cattoliche frequentate da circa 60 milioni di studenti si sono ritrovati per rilanciare l'impegno nei prossimi decenni. Il cardinale Giuseppe Versaldi, prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica, si sofferma sul contributo delle scuole cattoliche al dialogo interculturale e interreligioso. La proposta cristiana è sempre tale, mai un'imposizione, è sempre una proposta e quindi lascia spazio all'adesione o meno a quello che è il dato di fede. Ma siccome valorizza il dialogo della ragione in un'epoca di secularizzazione che paradossalmente ha portato l'indebolirsi della ragione, la Chiesa Cattolica e le scuole cattoliche sono quelle che offrono, soprattutto in certi paesi, l'unico appiglio per un progresso che sia veramente umano, integrale. Papa Francesco a fine ottobre ha costituito un'apposita fondazione che prende il nome proprio dalla gravissimum educazionis. Ora gli educatori cattolici hanno testimoniato come l'invito del pontefice a educare umanamente con orizzonti aperti sia una necessità di oggi. Anne Cummins, vice-rettore dell'Australian Catholic University. Tutte le università devono rispondere ai bisogni degli studenti, migliorando la qualità dell'insegnamento per consentire loro di apprendere meglio. Inoltre oggi vi sono gruppi più eterogenei che frequentano l'università e molti di loro hanno bisogno di sostegno nello studio o supporto a motivo delle loro condizioni sociali o economiche. Alle università si chiede proprio questo tipo di servizio. Esse devono poi preparare i giovani per impieghi che ora non immaginiamo nemmeno. È necessario che si proiettino nel futuro pianificando innovazioni sia nell'insegnamento sia nell'apprendimento, ma anche sviluppando uno spirito creativo nei nostri giovani affinché partecipino alla creazione dei mestieri del futuro.